La macchina è davvero interessante sia dal punto esteriore che da quello interiore Ma adesso, dopo aver visto qualche dettaglio, potremmo vedere anche come si comporta in pista La versione che caratterizza la 911 della serie 991 da quella della 997 che è lì davanti Sono soprattutto le limci che sono state ristrette e lo sfogo dell'area del motore che è stato spostato poco qui in alto Per quanto riguarda invece l'anteriore, il Parauti è stato aggiornato veramente leggermente Le forme riprendono quelle della 997, però è stato modificato in modo da raffreddare i freni e tenere la macchina abbassata Quindi, per quanto riguarda invece l'anteriore ha dovuto ошибare, spero che Eugene Inoltre Sto trovando i freni mentre ho Sto trovando i freni, Grazie a tutti.